Bucinesi a posto per il mercato? Non ancora. La società Arancio Verde infatti ha necessità impellente di allungare i giocatori in quota. Mister Coppi infatti ha richiesto almeno altri tre componenti da aggregare nella rosa nati nel 1997-98. A quanto pare però quest'anno sarebbe il più difficile in assoluto per riuscire ad ottenere anche prestiti da realtà di categoria superiore, vista la forte concorrenza. Sono avviati i contatti continui con l'Arezzo e le altre realtà giovanili del capoluogo provinciale ma ad oggi in attesa della pubblicazione delle liste di svincolo il numero di giocatori in quota è ridotto ed il solo portiere Pelliccio classe 97 è attualmente tra le certezze per gli 11 in campo. Non cambierebbe nulla neppure il ritorno di desiderio dopo una stagione non certo importante a Montevarchi essendo quest'ultimo nato nel 1996. La rosa composta dagli esperti è pressoché completa invece ancora da precisazione del presidente Curcio e del trainer un innesto arriverebbe solo in caso di forte occasione da giocarsi dopo la compilazione delle liste. Appunto però intanto almeno due difensori ed un centrocampista under 19 servono nel modo più assoluto.